partenza per letta allora commenti commenti cosa vi aspettate intanto siamo contenti di essere qui di non andare a lavorare aspettiamo la prima gita a 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 partenza a a a a a Pudio a psa bielsa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.